E non ho voglia di combattere, di stare lì a sgomitare, proprio questo non mi interessa. E poi avvicinandomi al Carmelo, la preghiera. Cioè scopro che la cosa più importante della vita, qualsiasi credo uno poi può avere, certamente, io ho questo cristiano, la cosa più importante è la preghiera. Prima cosa, prima del lavoro, prima di ogni cosa, la preghiera. Tu mi conosci, non puoi dubitare, tra mille affanni non sono andata via. Rimani qui al mio fianco, sfiorandomi la mano, e lascio la mia vita a te.